Era d'inverno. Stavo passando vicino alla tomba e senti dei rumori proveniti da essa. Dopo qualche secondo, vidi una luce. Il gigante era tornato in vita. Sembrava gentile. Senza spaventarmi, inizia a fargli delle domande. Chi sei? Sono un bugio e sono qui a guardia della necropoli del mio villaggio. Perché? Mi hanno messo qui a proteggere i spiriti dei defunti. Perché ti hanno messo qui ai proteggi spiriti dei defunti? Perché la mia gente crede che gli spiriti dei nostri morti devono essere proteggiti dagli spiriti malvagio. Da quanto tempo sei qui? Da più di 3.000 anni. Come da più di 3.000 anni? Non ti avevo mai visto. Sono rimasto sepolto per tutti questi anni, finché la pioggia, il vento e tutti gli eventi atmosferici mi hanno riportato alla luce. Ma sei rimasto solo tu? No, qui sotto il terreno ci sono altre decine di pugili come me e guerrieri. Ora che mi hanno trovato, voi uomini moderni avete la possibilità di scavare e trovare tracce delle vestigie del nostro passato. E a poco a poco conoscere meglio la storia delle gente di Sardegna. La tua è una storia molto affascinata, tornerò ancora a trovarti. Studierò tutto ciò che riguarda per la vostra storia e la nostra storia.